Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi ed è per me un piacere, un onore, devo dire, ve lo dico subito, sono veramente emozionato a presentarvi gli ospiti di stasera perché sono degli ospiti davvero straordinari e speciali. Do il benvenuto a Effetto Notte a Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo che sono due grandi artigiani del nostro cinema, due eccellenze che dall'Italia hanno spiccato il volo praticamente nel mondo. Tre premi Oscar, infinite nomination, le racconteremo in questa puntata, insomma non avete bisogno di presentazioni però io qualcosa la voglio dire perché gli americani utilizzano dei termini, dicono production designer per Ferretti, set decorator, la signora lo schiavo. Però diciamo io direi così, da Pasolini a Fellini a Scorsese, Ferretti crea i luoghi in cui si svolgono le scene di film indimenticabili, guardate ne vedremo in questa puntata di Pazzesche e Francesca Lo Schiavo crea gli arredamenti e tutti i più piccoli dettagli. Allora benvenuti, grazie di aver accettato il nostro invito e io comincerai subito con una domanda, ma per voi è più importante, lo so che è difficile ora per rompere il ghiaccio, però proviamo, è più importante nel vostro lavoro la realtà o l'immaginazione? Chi mi risponde? Ma penso tutte e due le cose vanno mescolate perché la realtà serve, però quando è troppo vera è un po' noiosa, allora l'immaginazione credo che aiuti il momento a immaginare. Che poi è il bello del cinema, no signora lo schiavo? Ma io penso che appunto quando lavoro parto da quello che mi richiede la situazione, lo script, quindi c'è una profonda realtà in tutto quello che uno deve fare. Però poi voglio dire, certamente dipende dai film, ma più che immaginazione c'è la creatività. Ecco, infatti mi sembra che questa è la parola chiave del vostro lavoro, che tutti vi riconoscono. Perché si parte da una realtà che poi spesso è trasformata. Allora io direi questo, vorrebbero dire a questo punto facciamo qualche esempio e facciamo parlare il cinema, perché appunto tra l'altro coppia al cinema e nella vita, appunto sul lavoro anche, e quindi vi scopriamo, abbiamo scelto proprio, tranne un'eccezione, praticamente tutti i film che avete fatto insieme, da Gangs of New York, Intervista col Vampiro, Hugo Cabret de Pietro, sono tantissimi, guardate. Grazie a tutti. 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 che non ricordo di qualcuno dei vostri film, perché insomma, sono dei film che il pubblico da casa ama e ricordano. Allora il nome della rosa, no? Prima l'abbiamo visto. Sean Connery, Grande Lavoro Lì. Avete fatto proprio un lavorone. se abbiamo ricostruito tutto, tutta la bazzia proprio tutto, tutto quanto dalla alla torre, alla chiesa, agli interni, al labirinto, insomma, abbiamo rifatto tutto, tant'è vero che io mi ricordo che un giorno mi chiamò, quasi alla fine, era alla fine del film, una rivista, mi pare, tipo Italia Nostra, queste cose qui, allora dice, senta signor Ferretti, ma voi state girando questo film in un posto che noi non ce l'abbiamo nel nostro archivio, ma dov'è? Io ho detto, guardi, che a prima porta, al decimo chilometro, va sulla sinistra, c'è una cava di tuffo, e vicino con la cava di tuffo c'è questa cosa, ma com'è possibile? Sta vicino a Roma e noi non sappiamo niente. Dico, guardi, se la vuol vedere, bisogna che ci va subito, perché la cominciano a smontare tra tre giorni che abbiamo finito il giro. L'avete creata? Sì, l'avamo disegnata tutti. Anche per l'arredamento c'era una, io avevo un'equipa di falegnami, di pittori, di scultori, e Michel Jacques Annou, il regista, veramente ha voluto creare il Medioevo e si è consultato con gli storici del tempo, cioè tipo... Sì, sì, certo, una grande... Esatto, e quindi lei pensi solo ai libri, voglio dire, sono stati fatti libri veri con tutte le miniature. E poi, non so, da tutti gli scranni, da tutto, cioè tutto è stato ricostruito con mobili veri, tutte le cose dell'erboristeria, se lei pensa, con tutti quei vasi, tutto fatto, siamo andati dai vasai con i disegni dell'epoca, quindi è stata veramente... È una ricostruzione storica molto attenta. Un lavorone, come il lavorone è stato quello per Gangs of New York, no? Tra l'altro lì, diciamo, come si fa a far quadrare un po' tutto, perché c'erano questi set, ecco li stiamo vedendo, imponenti, maestosi, con tutte queste comparse, e poi dentro pure le star, perché insomma c'era Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, come si fa a tenere insieme tutto? Beh, insomma, questo qui è anche una cosa divertente, posso dirla dall'inizio, perché noi stavamo a Venezia con Martin, che presentava un documentario sul cinema italiano. Allora diceva, allora Dante, adesso voi Francesca dobbiamo fare questo film, Gangs of New York, bisogna che... Allora io ho detto, scusa Martin, ma perché non proviamo a farlo, dobbiamo ricostruire tutto, perché non c'è più qualcosa, perché non lo facciamo a Cinecittà? Ah, ma che Cinecittà, figurati, lui poi c'era venuto a Cinecittà, lo conosceva? No, dico, ma guarda, tanto per provare. Allora che cosa è successo? Che io gli ho detto, ma tu stai con l'aereo privato, sì, c'era l'aereo privato e c'erano altre due o tre persone con lui. Ho detto, perché andando a New York non ci lasci a Roma, lì, a Coso, a Ciampino? Tra l'altro, dico, Ciampino sta vicino a Cinecittà. Allora ha detto, va bene. Allora io che ho fatto, ho telefonato alla Cascina, che è il ristorante che sta di fronte a Cinecittà. Ho detto, guarda, stiamo venendo con Scorsese, metteteci in un posto, perché guarda, lui gli secca sempre stare in mezzo a tanta gente che parla, urla, cosa così. Allora siamo andati lì e ha mangiato benissimo. Poi io già avevo telefonato a Cinecittà, era domenica, e ho detto, guarda, apritemi la porta, io devo andare in giro con Scorsese e fargli vedere tutto. Sono andato lì, siamo andati, lui ha guardato tutto quanto, ha detto, beh, sì, forse come spazio ci siamo, forse si può fare. Dico, Martin, pensa, tu stai qui, stai a Roma, si sta benissimo. Se mangia bene, stai a Cinecittà, costa di meno. Ma perché dobbiamo andare a New York a fare tutti quei casino? E c'aveva ragione Ferretti, perché è stato un grande risultato. E poi possiamo dire che forse è stato l'ultimo film, l'ultimo film, che è stato fatto con pochissimo digitale. Cioè abbiamo ricostruito tutto, perché dopo di allora i grandi film come Gangs of New York sono fatti, si adopera molto di più il digitale. Per Cenerentola invece com'è andata? Quanto era vero? Perché, tra l'altro, se non mi sbaglio, è uno dei suoi film preferiti, signora lo schiavo Cenerentola. Anche dei miei, devo dire. Devo dire che, tra i film che ho fatto con molto piacere, sicuramente, Devo dire che il mio cuore va ad Avietor, perché è stata veramente una sfida, una sfida dall'inizio. E quindi Cenerentola è diverso perché è stato, diciamo, mi sono sentita più a mio agio. Lì, una redatrice italiana doveva ricostruire la Golden Age di Hollywood. La Golden Age sono quegli anni che vanno dal 20 al 35, dove Hollywood dava il massimo negli studios, in tutte le cose. E quindi io mi ricordo che sono andata da Scorsese e ho detto, Martin, ma mi dai questo incarico? E lui ha detto, va bene, hai fatto Kundun in Marocco, quindi puoi fare anche questo a Los Angeles. E quindi, però, insomma, io mi sono talmente dedicata a questo film che tutte le sere, tornando dal lavoro, vedevo sempre pellicole che riguardavano il periodo per entrare veramente nella sensibilità di questa epoca. Allora, abbiamo capito che il vostro lavoro è fatto di precisione, di dedizione, di una grande serietà. E allora io adesso voglio parlare di un grande maestro del nostro cinema, che è Federico Fellini. Insieme avete lavorato su un titolo e Ferretti, su due, sì, Ferretti abbiamo... Io ho fatto due film e Dante ne ha fatti cinque. Esatto, Ferretti ne ha fatti molti di più. Allora, i titoli ovviamente sono tanti. Noi ne vogliamo, abbiamo scelto uno, vediamo un momento di un film, perché è un film molto amato dal nostro pubblico, che è Ginger e Fred, guardate. Allora, Ferretti, è sempre... Ora, tra poco parleremo del rapporto speciale che voi avete, lei in particolare, con Fellini, però rivedere questi attori, no, è sempre una cosa emozionante, rivedere Lamasina, Mastroianni, come erano. Sì, poi eravamo amici noi, per cui, sì, abbiamo fatto un po' di film insieme. Cioè, anzi, io ho fatto un po' di film insieme a lui. Cioè, non è che abbiamo... Insomma, abbiamo passato, diciamo, della nostra vita, dei periodi molto, molto, molto interessanti. E io lo voglio spiegare anche agli amici che ci seguono, partendo da un'immagine che secondo me rende bene tutto questo, perché è in corso a Cinecittà e, tra l'altro, invito tutti ad andarla a visitare, non solo i romani, perché può essere l'occasione anche di farsi una bella gita a Roma per scoprire veramente un momento, quando si dice di grande bellezza, questa mostra installazione lo è. Si chiama Felliniana, Ferretti sogna Fellini. E io, per raccontarla, tra poco vedremo l'immagine, voglio partire da questa foto, perché in questa foto che state vedendo, appunto, c'è addirittura Fellini con lei, Ferretti, perché che cosa succedeva? C'era questa Fiat 125 e voi che cosa succedeva? Ogni giorno andavate a Cinecittà, com'era questa cosa? Sì, andavamo a Cinecittà perché io abitavo in quel periodo a Via del Babuino e lui a Via Margutta. Allora ci incontravamo sempre a Dacanova, ci davamo appuntamento e allora dice andiamo insieme a Cinecittà e lui lì mi chiedeva sempre, Dantino, ma che ti sei sognato stanotte? E lei che gli rispondeva. Allora gli dice, ma non mi ricordo, giorno dopo, sempre la stessa cosa, Dantino, che ti sei sognato stanotte? Sì, ho sognato qualcosa, però non mi ricordo bene, ma ho delle immagini, però adesso non ti posso dire. Terza volta, Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono dovuto cominciare a inventare i sogni, cioè allora io mi inventavo i sogni e gli raccontavo quello che mi ero sognato. Ma li usava poi per i film questi sogni? Li usava poi per i film? Sì, perché per esempio sulla città delle donne, allora io gli dicevo che mi ero sognato delle cose che in realtà poi non è che me le ero sognate, le avevo vissute quando io sono nato nelle Marche, a Macerata, allora quando ero ragazzino, accompagnavo mia madre per esempio dalla Sarta e allora io che facevo, ero piccolino, mi mettevo sotto il tavolo e guardavo sotto le gonne delle donne che stavano lì. Allora, tanto è vero che lui le ha rifatte certe cose, poi andavo alla macelleria dove c'è stata la macellaria che tagliava la cosa, e poi dalla pedala, quella che vendeva il pesce, che usava, che con le mani usava le anguille come fossero, adesso non mi viene in mente. Comunque c'è tutto un mondo, diciamo e abbiamo capito anche che, ecco, questo mondo veramente magico, no? Perché quando parliamo di creatività, che forse è la parola che caratterizza questa puntata, intendiamo tutto questo. Allora, andiamo a scoprire questa mostra di installazione che hanno fatto Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo e che è in corsa a Cinecittà Felliniana, guardate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Davvero, quando si dice la grande bellezza, è davvero un'occasione per i romani, ma anche per tutti, di venire a Roma a visitare veramente questa, è molto emozionante. Signora Lo Schiavo, ma c'è una cosa, per esempio, che le ha chiesto Fellini, no? Nel suo lavoro, una richiesta magari difficile da soddisfare? Senta, no, questo non c'è stato, c'è stato, diciamo, un fatto che per me è stato basilare nella mia carriera, perché nella nave va, che è un film meraviglioso e profetico, e io veramente sono, lo ritengo veramente un grande onore poter essere, poter avervi partecipato. E in questo film mi sono ritrovata alla fine il credito di arredatore, mentre avevo cominciato come assistente, umile assistente, di Massimo Tavazzi, che era un bravissimo arredatore. E quindi per me, cioè, trovarmi in quel film così importante, così splendido, quella qualifica, sono andata da lui e gli ho detto Federico, ma perché, eccetera. E lui mi ha risposto, il tuo lavoro è stato dal redatore, e quindi lui, io non avevo quasi paura di incontrarlo, lavoravo, lavoravo, però lui aveva visto, perché vedeva tutto. E quindi, scherzando, lui diceva, io sono il burattinaio che decide tutto, e quindi io mi sono ritrovata il credito. Poi un'altra cosa di Federico, che diceva tutto piccolo, Franceschina, puoi fare un piccolo tavolino, mi serve lì? Invece gli serviva un tavolo di tre metri, e a Dante lo può dire, gli diceva, Dantino, mi serve una piccola cosa, invece era una parete di sei metri. Cioè, ecco, però bastava conoscerlo. E certo, e voi avete avuto questo privilegio, insomma, e anche lui, chiaramente, di lavorare con voi. Allora, adesso parliamo di un altro grande regista, ci avete raccontato già qualcosa prima, con cui l'avete lavorato moltissimo. Parliamo di Martin Scorsese, parliamo di Oscar, qualcosa ce l'avete già raccontato, però adesso ci facciamo un ripassino, perché a parte le numerose nomination, appunto, dicevate, non ci volevate nemmeno più andare, però poi l'avete vinto, l'avete vinto tre volte, 2005 per Dia Vietro, 2008 Tim Burton, il film Sweeney Todd, e poi 2012 per Hugo Cabret. E ne abbiamo? E ne abbiamo? Sei! Ma dove li tenete a casa, scusate? Perché sono tre per me e tre per lui. Esatto, perché ognuno ha avuto... Quindi, avendo poi una convivenza, noi abbiamo tutti insieme, su una mensola, che ci guardano. Ecco, benissimo, che puoi anche portarseli a casa, perché sono pesanti, e io per la volta sono andata a casa. Sì, sì, no, è fissata bene, una mensola dell'IKEA. Ok, va bene. Senti, allora facciamoci un po' un ripassino di questo momento davvero emozionante. Eccoli qua, Ferretti, lo schiavo agli Oscar. And the Oscar goes to Dante Ferretti, for The Aviator, and for set decoration, Francesca Lo Schiavo. This is the eighth nomination for Dante Ferretti, and sixth for Francesca Lo Schiavo. Tonight they win their first Academy Award. And the Oscar goes to Dante Ferretti, for Sweeney Todd, the Damon Barbara of Fleet Creek, and the set decoration, Francesca Lo Schiavo. And the Oscar goes to Hugo, Dante Ferretti, production designer, Francesca Lo Schiavo. Set decoration. Martin Scorsese. Thank you, thank you, thank you very much. Grazie, Martin. This is for Martin and for Italy. Allora, prima di parlare delle cose serie, però concedetemi una cosa. Il suo nome, signora Lo Schiavo, l'hanno detto sempre, ogni volta c'era una cosa. Non riescono a dire l'acca. Questi americani non riescono. Non riescono a dire? L'acca. Ah, lo Schiavo, sì. L'hanno, l'hanno un po', però la sostanza rimane. Allora, una cosa, l'abbiamo appena sentito, lei ha detto, this is for Martin, giustamente, Scorsese, this is for Italy, perché questa è una cosa che ci riempie di orgoglio, perché è come quando ai mondiali di calcio si tifa, noi tifiamo italiano, e voi ce l'avete portata a casa tre volte, moltiplicato due, sei, no? Cioè, è una cosa, mi sembra, credo, di grande soddisfazione anche per voi, no? Beh, io in quel momento, tanto, una volta avevo ringraziato i figli, avevo dedicato i figli, un'altra volta avevo... Alla fine ho detto Martin, perché è logico, lavorando con lui, e poi ho pensato all'Italia, perché lì l'Italia è lontana, sembra tutto così, ma lì sei in mezzo a tutto il mondo e l'Italia è veramente lontana, e quindi mi è sembrato proprio giusto, e io sono italiana, anche se ho avuto la fortuna, di lavorare in America e di vivere lì molto, però sono fiera di esserlo. Perché poi è un lavoro pazzesco, non a caso abbiamo voluto chiudere questa clip con questa sequenza di Hugo Cabret, no? Allora, quando parliamo del vostro lavoro, no? Già solo la scena della stazione, no? Lo vogliamo dire appunto agli amici che ci seguono. Cioè, lì praticamente avete ricreato... Tutto ricostruito. È un lavoro pazzesco, quindi... Tutto, tutto, tutto. Altro che Oscar, no? Perché... Sì, sì, no, in quel film abbiamo ricostruito tutto. L'unica cosa che c'è di, come si dice, di... Fatta con i visual effects, è solamente quando si vede la stazione da lontano e si avvicina, poi a un certo punto c'è del fumo, che è il fumo dato dal treno che entra, e da quel momento si apre il fumo e da quel momento tutto quello che si vede dentro la stazione, la piazza di fuori, tutto l'interno, sopra, sopra, tutto quello è stato tutto, tutto ricostruito. Va bene, quindi insomma, un gran lavorone. Tra l'altro appunto, l'Oscar, non so se ti fate per qualcuno quest'anno in particolare. Per Martin. Certo, per lui, anche se questo film con lui non l'avete fatto, però siete nel prossimo. Non importa, ne abbiamo fatti talmente tanti. Tra l'altro state lavorando anche, esatto, state lavorando anche sul prossimo. Io ho una curiosità, prima di salutarci, allora, abbiamo raccontato il vostro lavoro, avremmo potuto dire molte più cose, però insomma, io mi sono veramente emozionato in questa puntata. Voi lavorate insieme da sempre, siete una coppia anche nella vita, sono chiaramente due cose diverse, però un po' ve lo voglio chiedere alla fine, ma come si fa? Per esempio, sul lavoro ognuno fa il suo, ogni tanto c'è qualche discussione, c'è un elemento più trainante della coppia? Discussione, discussione può essere... No, ci bicchiamo. E quindi Ferretti mi dice la verità. Non avremmo potuto fare tanti film insieme. Io dico veramente sempre che quando il lavoro è la parte, diciamo, migliore del nostro rapporto, cioè il nostro rapporto migliora lavorando insieme, perché non ci sono polemiche, non ci sono storie, cioè io rispetto lui e lui rispetta me, me lo sono guadagnato. È una cosa difficilissima, infatti. Me lo sono guadagnato, però devo dire che è una, cioè veramente... È il rapporto migliore, durante la vita non tanto. No, ecco, io vorrei dire, durante la vita invece, come vede, prima mi ha detto, mi raccomando, mettiti la sciarpa, ti devi coprire la pancia, insomma, è una vita, guardi, che non si può mangiare niente, non si può fare niente perché uno, come dice, ingrassa. Però è bello essere accuditi, Ferretti, è bello essere accuditi, anche questa è una prova d'amore. Ma sì, ma lo sai che vuol dire che sono 40 anni che mi... Così, mi ha fatto cadere i capelli. No, 40, tu lotti per da che sei nato con questo. No, io ero magro, no, dai, dura. Benissimo, allora dovete tornare, facciamo un'altra puntata, continueremo ancora a parlare. Allora, io vi ringrazio per aver preso parte al nostro programma e penso che anche se abbiamo visto dei momenti di cinema bellissimi, il meglio debba ancora venire, insomma, io questo assolutamente ve lo auguro. La vita è piena di sorprese e quindi vediamo, insomma, vediamo, certo. Bene. Tu hai giocato l'Enelotto? Avete capito che ha un umorismo, Ferretti, oltre ad essere un grande professionista, e anche di questo la ringraziamo perché ha arricchito, assolutamente sì, che ha arricchito moltissimo la nostra puntata. Un piacere, un onore, aver avuto ospite, effettua notte, i premi Oscar. Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, grazie, grazie per il lavoro che fate, grazie per essere stati con noi. Effettua notte torna alla prossima settimana, il venerdì, la domenica e il mercoledì, sempre in seconda serata, sempre su Tipo 2000, con tante sorprese e novità. Mi raccomando, vi aspetto.